Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. Oggi stiamo pianificando un caso di ricostruttiva veramente complesso. Questa è la posizione finale dove dobbiamo andare a posizionare gli impianti, o meglio gli impianti, i denti del paziente che abbiamo qua in Moldavia. E questo che vedi qua è il gap di carenza ossea, riassorbimento osseo che si è avuto. Quando un paziente perde i denti, non perde solamente i denti, ma anche le radici che stanno nell'osso e anche all'osso. La porzione anteriore della premaxilla, quindi questa parte che abbiamo sotto il naso, è quella che si sviluppa dieci volte più veloce rispetto per esempio alle ossa del femore del nostro corpo umano. Quando ci sono infezioni, le infezioni procedono in maniera progressiva, rapidamente, fino ad andare a perdere tutto l'osso che poi è di supporto alle radici. Questo è un caso particolare che dovrà essere risolto con implantologia zigomatica, impianti non convenzionali, chirurgia terziaria che viene eseguita su quei casi speciali dove non si può fare altro. Fate attenzione quando scegliete il vostro centro di riferimento per la chirurgia, perché se non adottano, se non sono pratici anche di queste tecniche di chirurgia terziaria, c'è il rischio che vi facciano dei trattamenti semplificati che non possono poi porre rimedio, c'è il rischio che poi vi crollano i lavori fatti. Qua stiamo andando a pianificare con Livio Rakovizza, ve lo presento, il nostro tecnico digitale specializzato a Londra in riabilitativa estrema della bocca che ci consente di andare a realizzare poi la protesi sapendo già prima dove atterreremo. Noi non andiamo per caso a mettere i denti in bocca, andiamo prima a pianificare il risultato finale con TAC tridimensionale del paziente, anche scansione del viso e alla fine andiamo a creare quella che è la guida chirurgica che ci permetterà in questi casi di andare a posizionare nella mandibola, la parte inferiore, gli impianti dentali e soprattutto sopra andare a pianificare la protesi provvisoria, quindi post chirurgica ortopedica che ci permetterà di iniziare a funzionalizzare il paziente. Io qua da Chisinao vi faccio un saluto e che dire, se dovete fare chirurgia complessa verificate che il centro al quale vi state rivolgendo sia anche pratico di tecniche avanzate e soprattutto pianificazione digitale di quello che è il risultato, perché sono queste tecniche molto particolari, complesse se vogliamo, dove non si può andare a stentoni a caso. Grazie.